bentornati in questo video faremo una rapida carrellata sulla vita e sull'opera cinematografica di Stanley Kubrick partiamo analizzando la bio filmografia Stanley Kubrick nasce a New York nel quartiere del Bronx il 26 luglio 1928 da genitori ebrei di origine austriaca la passione per le immagini scaturisce in lui a 13 anni quando il padre gli regala una macchina fotografica grazie allo scatto che ritrae un edicolante affranto dietro una risma di giornali che annunciano la morte del presidente Roosevelt Kubrick si guadagna a 17 anni l'assunzione come apprendista fotografo nello staff della prestigiosa rivista Look dopo essersi affermato ancora giovanissimo come fotoreporter la passione per il cinema in particolare per autori come Max Hoffilz e Ingmar Bergman lo porta a misurarsi con la macchina da presa nei suoi primi cortometraggi nel 1951 è così la volta del primo documentario il giorno del combattimento dedicato al pugile Walter Cartier il film segue il peso medio Walter Cartier nel pieno della sua carriera il 17 aprile 1950 mentre si prepara per l'incontro con il peso medio Bobby James Cartier va alla prima messa fa colazione nel suo appartamento sulla dodicesima di strada di Greenwich Village e pranza nel suo ristorante preferito alle 16 inizia i preparativi per il combattimento alle 20 sta aspettando che inizi il match nel suo camerino a Lauren Garden di Newark viene quindi mostrato l'incontro che Cartier vince in breve tempo il corto nella sua versione da 16 minuti è incluso nelle edizioni Blu-ray disc e DVD video di Paura e Desiderio edite da Radio Video il 12 settembre del 2013 ma c'è anche visibile in lingua originale su YouTube la RKO lo compra e gli commissiona subito un altro documentario Flying Padre il riverendo Volante nel 1951 sulla figura di un prete che nel Nuovo Messico percorre a bordo di un biplano la sua immensa parrocchia il riverendo Fred Stadmuller il sacerdote cattolico del Nuovo Messico rurale è conosciuto dai suoi parrocchiani come il padre volante poiché la sua parrocchia è di 4000 miglia quadrate è così grande che usa un aereo Paper Cub chiamato Spirit of San Giuseppe per viaggiare da un insediamento isolato all'altro il film mostra due giorni nella sua vita quotidiana mentre fornisce guida spirituale dice una messa funebre e fa colazione in canonica i suoi giorni includono un funerale per un vaccaro e la consulenza per due giovani parrocchiani che hanno litigato nel finale Fly in Padre opera anche come elisoccorso improvvisato trasportando in ospedale un bambino malato e sua madre pensate un po' questo sacerdote a quante opere era chiamato davvero un'opera veramente il caso di dirlo pastorale il 1953 per Kubrick è l'anno di svolta perché fa il primo corto a colori ma soprattutto perché riesce a fare il primo lungometraggio della durata di soli 68 minuti Fear and Desire, Paura e Desiderio la storia di una guerra stratta ambientata in una metaforica foresta Don Holbeck descrive i vantaggi dell'associazione il soggetto riguarda quattro soldati rimasti intrappolati dietro le linee nemiche in una guerra senza nome la regia di Kubrick risentì dell'influenza del cinema russo d'avanguardia in particolare delle scene appariscenti ed espressionistiche di Sergei Michael Eisenstein di cui il giovane regista era un appassionato nonostante il regista pubblicizzò fortemente la pellicola a tempi della distribuzione Paura e Desiderio non fu un successo al botteghino e Kubrick leggiamo anche una recensione su Variety che definì la pellicola un colto originale dramma sulla guerra notevole per il suo impiego della macchina d'apprese e il dialogo poetico una fusione di violenza e filosofia in parte raffazzonato in parte fortemente toccante nel corso degli anni Kubrick non guardò mai a Fear and Desire con affetto la definì piuttosto un'esperienza formativa e a tal proposito dichiarò sinteticamente a John Stein del New York Times la sofferenza è una grande maestra ad Alexander Walker disse le idee che intendevamo trasmettere erano buone ma non avevamo l'esperienza per trasporle su un piano drammatico fu poco più che una versione 13 mm cioè la versione standard di un film che una classe di studenti di cinematografia avrebbe potuto fare in 16 mm i 16 mm sono naturalmente più maneggevoli e meno costosi e così per darvi un senso delle proporzioni Eightful Eight di Quentin Tarantino ma anche The New World di Malik e The Master di Anderson sono fatte in Panavision 70 mm anche se poi in realtà sono 60 e permette un'immagine migliorata di 6 volte rispetto ai 35 mm c'è un fotogramma più grande donando una definizione migliore questo film Paura e Desiderio non andò bene e quindi Kubrick per rifarsi un po' anche economicamente gira The Seafarers sempre del 1953 è incentrato su un sindacato di marinai Donone Becker descrive i vantaggi dell'associazione alla SIU e mostra in dettaglio le diverse attività che un membro può svolgere durante la visita alle sedi del sindacato che sono sparse per le coste del paese nonché i numerosi servizi offerti da barbieri ai ristoranti il film parla degli stabilimenti che offrono buoni sconti a coloro che aderiscono al sindacato esplora anche altri importanti benefici come l'assistenza sanitaria l'assicurazione le borse di studio per i figli dei marinai infine spiega anche alcuni dei diritti e degli obblighi di ogni membro del sindacato nonché come organizzato e come funziona nei suoi processi democratici in Italia The Seafarers è stato distribuito per la prima volta come extra nell'edizione on video dello stesso film edite da Rarovidio il 12 settembre 2013 naturalmente insomma Paura e Desiderio era ancora un film finanziato da amici e parenti in seguito verrà disconosciuto dall'autore come abbiamo visto a causa della sua approssimazione tecnica saltiamo al 1955 due anni dopo è ancora un film la volta ancora di un film autoprodotto è girato in soli 20 giorni e si chiama Il bacio dell'assassino del 1955 nel quale tuttavia si comincia a evidenziare il talento visivo e la capacità di controllare ogni fase del processo creativo la narrazione improntata sul modello della Francia della Fiava del Principe e della bella salvata dall'orco è caratterizzata dalla frantumazione della dimensione spaziale e temporale e dall'ambiguità di un protagonista a sua volta fratto in una situazione di doppiezza quindi già si tocca il tema del doppio che sarà poi rivisto in tutte le opere cubrichiane la doppia faccia anche delle situazioni ma soprattutto in nice wide shot in occasione di una proiezione presso il Film Forum del 1994 Janet Maslin la famosa critica del New York Times disse Il bacio dell'assassino portò il regista in un territorio più convenzionale con una trama noir su un pugile un gangster e una ragazza da sala da ballo utilizzando il Times Square e persino la metropolitana come sfondo Mr. Kubrick lavorò in uno stile insolitamente naturalistico nonostante il materiale di genere con risultati contrastanti ma ancora affascinati pubrick ha sempre parlato del bacio dell'assassino come di un'impresa amatoriale un film di formazione il budget insufficiente gli attori però più sconosciuti l'assenza di uno staff tecnicamente preparato e la post-sincronizzazione dei dialoghi compromettono l'esito di questa sua prima fatica che però lascia la traccia di un talento registrico che non si limita a esplorare ad acquisire gli strumenti necessari a questo lavoro ma sviluppa una propria visione cinematografica il 19 luglio del 2019 il bacio dell'assassino è stato riedito in dvd in italia dall'AR production e come extra sono incluse delle gallerie con foto e locandini il successivo rapina ma l'armata del 1956 non ci abituiamo a questi film fatti un anno dopo l'altro perché poi passeranno addirittura anche nove anni fra un film e l'altro è il frutto del sodalizio con il giovane produttore James B. Harris nel 1956 comincia la fase hollywoodiana di Stanley Kubrick durerà poco arriverà dal 1956 al 1960 il quale gli offre finalmente la possibilità di realizzare un film con mezzi adeguati e con attori professionisti la storia contestualizzata nel territorio del noir è ancora una volta contrassegnata da un'originale struttura fondata su continui salti temporali attenzione all'indietro salti temporali all'indietro l'uso del tempo rapina a mano armata naturalmente sarà di ispirazione per parfiction di Quentin Tarantino e ricordiamo anche che il termine noir era usato dai francesi per recensire i romanzi gotici neri i romanzi neri inglesi così per avere contezza anche di questo rapina a mano armata titolo The Killian Film del 1956 prodotto appunto da James Harris che aveva occhio per l'intuito di Kubrick e il film fu scritto dallo stesso Kubrick con Jim Thompson sulla base dell'omonimo romanzo di Lionel White nel 1956 il 25 mm era uno degli obiettivi più ampi disponibili ottimo per le azzardate carellate grandangolari di Kubrick e per le panoramiche tipiche per le uccisioni i cadavri Kubrick usò una macchina a mano guidata personalmente e rapina a mano armata è oggi considerato un classico per la sua azzardata narrazione che non segue una struttura lineare proprio il tipo di narrazione che lancerà la carriera di Quentin Tarantino al principio degli anni 90 ma in quegli anni molti ne furono sconcertati i flashback erano in uso sin dai tempi di Griffith ma rapina a mano armata andava ben oltre l'idea del racconto a retroso che rivela delle informazioni funzionali allo svolgimento drammatico del film nel mondo cinematografico di Kubrick il tempo poteva essere visitato e rivisitato era proprio come viaggiare con la macchina del tempo di Wells mi risultava molto difficile seguire il filo leggendo il copione racconta Mary Winston ricordando quando lesse la prima volta la sceneggiatura prima di allora non avevo mai letto un copione con dei flashback adesso è diventata una cosa piuttosto normale ma allora non avevo mai avuto in mano un copione simile una cosa però è certa la struttura prese vita quando il film fu sullo schermo la trama è semplicissima ci sono un gruppo di persone malenarnese che tentano una rapina agli incassi di un ipodromo ne succederanno di tutti i colori rapina armata ottenne il plauso della critica il 7 giugno 2019 il film è stato riedito in dvd in italia dalla AR production nella versione rimasterizzata come extra sono incluse delle gallerie con foto e locandine e il trailer originale nel 1957 Orizzonti di Gloria sposta l'attenzione sull'ingiustizia della guerra derivata da norme sociali che determinano ineguaglianze e soprusi naturalmente le prime già nel cortometraggio no scusate già nel primo lungometraggio Paura e Desiderio del 53 si parlava di questa guerra astratta ambientata nella metaforica foresta quindi comunque la tematica sulla guerra sull'inutilità della guerra era già stata abbozzata là ma Orizzonti di Gloria fa un passo successivo ancora va in avanti rispetto a quello diventa proprio un film antimilitarista sulla prima guerra mondiale solleva molte critiche ma ottiene i complimenti addirittura di Churchill in seguito al tentativo fallito di dirigere Marlon Brando produttore e in seguito agli scherzi con Kubrick anche regista del film Nei due volti della vendetta nel 1960 regista neuerchese firma Spartacus ma non anticipiamo Orizzonti di Gloria Pass of Glory Pass of Glory è una Orizzonti di Gloria fa parte di un verso del poeta Thomas Gray lo trovate nel video dedicato a Horace Walpole è un film appunto del 1957 cosceneggiato e diretto da Kubrick tratto dall'omonimo romanzo di Humphrey Cobb il film è ambientato durante la prima guerra mondiale e vede Kirk Douglas nei panni del colonnello Dax un ufficiale comandante di soldati francesi che si rifiutano di continuare un attacco suicida dopo il quale Dax tenta di difenderli contro un'accusa di codardia in una corte marziale 1957 Kubrick ha 28 anni e Douglas che ha visto rapina a mano armata e impazzito ne ha 40 Douglas il padre di Michael Douglas Kirk all'epoca è il più quotato attore di Hollywood e qui ci racconta che dopo aver detto sì al film dopo aver letto una sceneggiatura fulminante bellissima di Kubrick appunto revisionata da Calder Willingham aveva accettato di fare il film poi si trova arriva e si trova una sceneggiatura completamente diversa dice Douglas chiamai Stanley e Harris nella mia stanza Stanley hai scritto tu questa roba? sì Kubrick aveva sempre un atteggiamento molto tranquillo non mi capitò mai di sentirla alzare la voce non lo vidi mai arrabbiarsi o rivelare qualche tipo di emozione si limitava a guardarti con quei suoi grandi occhi spalancati dissi Stanley perché l'hai fatto? con grande calma rispose per renderlo commerciale voglio guadagnare andai su tutte le furie lo insultai nei peggiori dei modi sei venuto da me con una sceneggiatura scritta da altri si basava su un libro io amavo quella sceneggiatura ti avevo detto che non pensavo che il film avrebbe avuto un successo commerciale ma che volevo farlo ugualmente hai lasciato che fossi io a occuparmi di mettere insieme il progetto ho trovato i soldi sulla base di quella sceneggiatura non di questa merda lancia i fogli attraverso la stanza o si ritorna alla sceneggiatura originale oppure il film non si fa Stanley non batte ciglio girammo seguendo la sceneggiatura originale penso che Orizzonti di Gloria sia un classico uno dei film più importanti forse proprio il più importante tra quelli girati da Stanley Kubrick ed è sempre Kirk Douglas a offrire a Kubrick in sostituzione di Anthony Mann la regia del Coloss ambientato come avevamo detto prima nell'antica Roma che si procurerà ben quattro premi Oscar attore non protagonista fotografia scenografia e costumi e che verrà tuttavia rinnegato dal regista a causa delle pressioni subite durante la lavorazione della produzione siamo alla fine del periodo di Kubrick Kubrick comunque vuole essere un indipendente vuole seguire tutta la fase della produzione vuole mettere bocca addirittura sulle traduzioni e sui doppiaggi nei paesi stranieri quindi figuratevi se un genio di tal schiatta non poteva sopportare le ingerenze le ristrette ingerenze hollywoodiane alla fine del 1960 stanco e disgustato dal sistema hollywoodiano Kubrick ripeto appartiene a una nuova generazione di registi che non voleva avere a che fare con hollywood si trasferisce in inghilterra per prepararsi a girare il suo nuovo film è lo scandaloso che poi scandaloso c'è ben poco scandaloso il romanzo il film pochissimo l'olita del 1962 ma non perché sia invecchiato era poco scandaloso anche all'epoca cioè fu intervento è stata una signora una tizia di New York che diceva ma finalmente lo potete far vedere anche agli adolescenti non è che abbia queste sconcezze tratto dal romanzo di Vladimir Nabokov e nuovamente una storia incentrata sul tema del doppio la cui uscita provocherà reazioni accese da parte della censura americana ma vabbè in America sono tutti puritani quindi naturalmente loro hanno cercato di tenerlo nascosto di lavare i panni sporchi in casa ma non avevano fatto i conti né con Kubrick né con poi successivamente David Lynch e molti altri nel luglio 1959 Nabokov e sua moglie Vera erano in Arizona a caccia di farfalle gli scrittori lobby preferito dello scrittore quando egli ricevette un messaggio da parte del suo gente Swift di Lazar nel quale gli comunicava che James Beiris e Stanley Kubrick che avevano acquistato i diritti per l'adattamento cinematografico di Lolita chiedevano che Nabokov andasse a Hollywood per scrivere la sceneggiatura del film di cosa parla questa benedetta Lolita tanto scandalosa il professor Umberth Umberth recentemente divorziato si trasferisce dall'Europa negli Stati Uniti per un incarico come insegnante in una scuola superiore alla ricerca di una residenza stabile il professor incontra una donna vedova Charlotte Hayes e sua figlia Dolores detta Lolita della quale gli si innamora a prima vista scelgendo di prendere in affitto un appartamento di proprietà della donna proprio per poter stare vicino alla ragazzina saranno seguiti da vari personaggi sempre più strani e ficcanti fino all'epilogo chi sono questi personaggi solitamente Peter Sellers spendeva la maggior parte della sua creatività durante la preproduzione del film nel caso di Lolita invece Kubrick lo incoraggiò a improvvisare esaurendo tutte le possibilità offerte di volta in volta dalla scena Sellers e Kubrick iniziarono a elaborare i molteplici travestimenti ecco chi sono questi personaggi di Quilty Guilty quasi colpevole il personaggio iniziò a prendere forma Kubrick parlò con Alexander Walker l'autore di Stanley Kubrick di Rex la prima biografia su di lui e autore anche della biografia autorizzata di Peter Sellers del metodo di lavoro utilizzato dall'attore sul set di Lolita quando chiamavano Peter egli generalmente arrivava camminando molto lentamente con uno sguardo tetro io facevo uscire la troupe e iniziavamo a provare con il procedere del lavoro iniziavo a rispondere a qualche sollecitazione che proveniva dalla scena il suo umore migliorava visibilmente e allora iniziavamo a divertirci cominciavano a sorgere delle idee improvvise e la prova iniziava ad andare bene penso che in diverse di queste occasioni Peter abbia raggiunto quello che si potrebbe definire uno stato di estasi comica e infatti non si dimenticherà di Peter Sellers e Kubrick e lo rivorrà assolutamente nel film successivo il dottor stranamore ovvero come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba siamo nel 1964 Lolita segnerà alla fine della collaborazione con James B. Harris d'ora in poi Kubrick diventa oltre che regista anche produttore dei suoi film il suo come dire futuro indie si sta realizzando le reazioni negativi al suo ultimo film da parte della stampa americana inducono ulteriormente regista a decidere di stabilirsi definitivamente nella campagna inglese di Airforshire vivendo nella massima privacy con accanto la nuova moglie la pittrice Christian Arlan che lo come dire starà con lui fino alla sua morte nel 1999 comincia così a diffondersi l'immagine di un regista sempre più schivo e appartato intorno al quale fioriscono numerose leggende che raccontano di tic manie e ossessioni sin dal momento dell'acquisto dei diritti sul libro il principale problema che si pose a Kubrick e James Harris fu come ottenere il sigilo di approvazione della MPAA che è una società dove sono riunite la Sony la Warner la Disney messe tutte insieme per un soggetto che trattava esplicitamente di pedofilia un argomento tabù per il codice ICE il codice ICE era quel codice di comportamento morale cosa si può far vedere e cosa non si può far vedere nei film che come dire fu pesante per la censura americana per molto tempo senza quel numero era difficile distribuire il film per sale e tv e senza una concreta possibilità di ottenerlo impensabile trovare dei finanziatori vediamo su parlandone a posteriori Kubrick definì Lolita un film non pienamente riuscito dal punto di vista artistico figuriamoci sarei mai contento se mi fossi reso conto di quanto rigide sarebbero state le limitazioni probabilmente non avrei fatto il film disse al Newsweek nel 1972 riferendosi alle restrizioni imposte dalla censura con il dottor stranamore commedia nera di fantapolitica liberamente tratta dal romanzo di Peter George Red Alert edito in Italia col medesimo titolo il regista sfodera un registro grottesco umoristico funzionale a una satira sul militarismo americano nel periodo caldo della guerra cosiddetta fredda la trama è così il generale Ripper convinto che esista un complotto comunista per conquistare il mondo libero ordina un attacco di bombardieri atomici B-52 sull'Unione Sovietica il presidente degli Stati Uniti cerca di rimediare coinvolgendo anche l'ambasciatore sovietico ma sarà tutto inutile un aereo non obbedirà l'ordine di rientrare e a cavalcioni di una bomba scenderà sul suo obiettivo un lucidissimo atto d'accusa contro la follia atomica e il militarismo condotto con le armi del sarcasmo e di quell'ironia che si andrà sviluppando in modo sempre più sul furio e cupo nelle opere successive da antologia la telefonata tra il presidente americano e quello sovietico i tre ruoli sono affidati a Peter Sellers capitano Lionel Mandrake il presidente americano Maffi e il suo consigliere dottor stranamore il cui braccio meccanico ne svela le origini naziste film assolutamente come tutti quelli di Kubrick da vedere e da godersi ancora oggi nel 1968 la volta del cult mistico filosofico 2001 odissea nello spazio premio Oscar per le sue 205 scene con effetti speciali spesso creati e comunque sempre supervisionati dallo stesso regista il film che rivoluziona i canoni della fantascienza cinematografica costato circa 10 milioni e mezzo di dollari è il frutto della collaborazione con lo scrittore di fantascienza Arthur C. Clarke anche co-sceneggiatore e con diverse autorità scientifiche anche se Kubrick teneva segreti particolari del suo film come se si trattasse di una missione della CIA restava un pragmatico uomo d'affari il 18 gennaio accolse quindi con un benvenuto il celebre fotografero Lord Snowdon marito della principessa Margaret giunto a Boreham Wood per un servizio fotografico su Regista e su 2001 per la popolarissima rivista Life Kubrick era ben conscio che la pubblicità giusta avrebbe stimolato le aspettative del pubblico restava affascinato inoltre Kubrick dalle nuove tecnologie ricorda un collaboratore bastava che sul set arrivasse qualcuno con un nuovo giocattolo computerizzato o roba del genere perché Kubrick fermasse tutto in quel senso aveva la curiosità di un bambino uno staff selezionato di progettisti e studiosi del futuro passava tutto il tempo a lavorare a un unico progetto la visualizzazione del segnale lasciato sulla terra dagli extraterrestri immaginati da Clark in La Sentinella Sentinella è il famoso racconto breve in cui si capisce il cambio di prospettiva anche della successiva fantascienza non c'è solo l'uomo al centro dell'universo ma le prospettive vengono anche da parte degli le prospettive narrative vengono anche da parte degli alieni bozzetti dei erano analizzati discussi e rispinte da Kubrick che riusciva sempre a cogliere in un'idea un dettaglio da usare come base per l'elaborazione successiva per l'oggetto stiamo parlando del famoso monolite il regista esplorò ogni possibile forma geometrica pretendendo una motivazione intellettuale per ogni configurazione proposta cercava una forma primaria che potesse comunicare con il pubblico in una sola immagine infatti c'è la visione del monolite extraterrestre che come dire dà la scintilla della 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 guerra del rapporto di signoria e servitù anche fra le scimmie antropomorfe è indimenticabile la vigorosa semplicità della piramide si trasfigurò nella complessità magica del tetraedro un solido identificabile come una piramide a base triangolare anche se l'oggetto sarebbe stato solidamente piantato sulla superficie terrestre doveva essere plausibile che fosse stato trasportato sulla terra attraverso lo spazio la scelta definitiva di kubrick fu un unico blocco nero rettangolare noto come il monolito per il regista esso conteneva il potere junghiano di una forza primordiale l'impatto visivo del solido nero della superficie perfettamente liscia è diventato la vera e propria immagine poetica centrale di 2001 odissea nello spazio un film che ha cambiato completamente la fruizione fantascientifica e il nostro immaginario collettivo il 1971 è l'anno del provocatorio e clockwork orange arancia meccanica tratto dall'omonimo romanzo di anthony bargas appena riuscì a trovare il tempo di leggere un'arancia all'originia kubrick ne fu immediatamente attratto ad andrew ballet della rivista rolling stone dichiarò si potrebbe quasi dire che il tipo di libro nel quale si fa fatica a cercare un motivo per non farlo ha tutto grandi idee una bella trama azione esterna personaggi collaterali interessanti e uno dei protagonisti più singolari che abbia mai incontrato nella narrativa alex l'unico personaggio che si possa paragonare ad alex è riccardo terzo e penso che entrambi agiscano in modo molto simile sulla nostra immaginazione entrambi portano il pubblico a dar loro confidenza entrambi sono completamente onesti acuti intelligenti e privi di ipocrisia in effetti riccardo terzo si rivolge continuamente a noi ci racconta tutto ci spiega tutto qual è il suo stato d'animo che cosa andrà a combinare quando ucciderà imprigionerà clarence e via citando e alex è così a Bernard Weirub del New York Times Kubrick raccontò il libro ebbe su di me un impatto immediato tutto mi eccitava la trama le idee i personaggi naturalmente il linguaggio per giunta la storia aveva una struttura tale da rendere più facile la riduzione a film naturalmente Arancio Meccanica l'ho letto e è assolutamente così cioè quando lo legge a parte che va bene non riesci più a liberarti di Kubrick perché Kubrick è persistente è infestante il Kubrick non va più via come tutti i grandi artisti come tutti i grandi intellettuali come tutti i più grandi visionari ti si piazza addosso e non ti dà più pace mentre leggevo io stavo vedendo Malcolm McDowell Malcolm McDowell che ho avuto il piacere di conoscere nel 2005 in via dei prefetti a Roma dove lo fermai lo trovai per strada ovviamente quando lo incontra sono impazzito lo fermai mi fece fare un autografo e lui fu molto cordiale mi pare che fosse a Roma per lavorare su il film del serial killer che adesso non mi viene in mente naturalmente meno male l'ha fatto Malcolm McDowell che Kubrick aveva visto precedentemente in un altro film If di Linson nel quale faceva sempre un capo della ribellione però all'interno di un college e anche quello è un film bellissimo da vedere assolutamente ma che ha avuto una fortuna naturalmente di arancia meccanica meno male abbiamo avuto Malcolm McDowell perché abbiamo rischiato di avere arancia meccanica con Mick Jagger vabbè lasciamo perdere basato sull'ultra violenza teorizzata e praticata dal protagonista Alex ed esaltata dalla messa in scena fondata sull'uso di obiettivi grandangolari arancia meccanica suscita diverse prese di posizione contro la pellicola e perfino l'accusa di stigazione a delinquere al punto che il regista sarà costretto a ritirare il film dalla circolazione mi ricordo che i miei genitori mi raccontavano di essere andati a vedere il film con le persone con la gente che dopo i primi dieci minuti di proiezione si alzavano e se ne uscivano dal cinema quattro anni più tardi naturalmente arancia meccanica parla del caro Alex questo ragazzo della periferia londinese che insieme ai suoi drughi pratica l'ultraviolenza fino a quando non sarà imprigionato dallo Stato è costretto alla prova ludovico una prova di rieducazione morale civile filosofica è costretto a leggere la Bibbia è costretto ad arrivare a una sorta di repulsa nei confronti della tanto adorata ultra violenza poi ci sarà tutto un periodo come dire una parte del film in cui dovrà espiare le sue colpe pregresse fino ad arrivare poi a non ve lo diciamo perché se non avete visto ancora arancia meccanica siete da come dire da ostracizzazione in una landa desolata quattro anni più tardi dopo aver rifiutato l'incarico di realizzare il sequel dell'esorcista il sequel dell'esorcista cioè Kubrick che deve fare esorcista 2 si misura con un altro genere cinematografico quella della biografia storica e qua arriviamo a Barry Lyndon 1975 tratto dal romanzo di William Macbeth Thackeray ripercorre la storia di un arrempicatore sociale fatta di splendore e decadenza il film sontuosa rappresentazione in costume ambientata nel settecento ottiene quattro premi oscar fotografia musica scenografia e costumi e si segnala soprattutto per l'uso espressivo delle lunghe zoomate e per la cura fotografica delle immagini ispirate a Antoine Watteau William Hogarth Thomas Gainsbourg e fondate negli interni sull'illuminazione prodotta dalla sola luce delle candele questo è risaputo grande sperimentatore tecnico sperimentatore tecnico Kubrick si avvale in questo caso di un sofisticato obiettivo Zeiss costruito appositamente per le fotografie fatte dai satelliti della NASA le ricerche del settore scenografia per Barry Lyndon furono imponenti Ken Adam lo scenografo ricorda Stalley voleva farlo quasi come un documentario su quell'epoca al momento di cominciare Kubrick sapeva ben poco sul periodo storico Ken Adam aveva una solita conoscenza di arte e architettura ma con il passare del tempo il regista divenne molto esperto assorbendo montagne di dettagli sulla vita del diciottesimo secolo fotografiamo tutte le location e tornavamo a casa per analizzare le foto spiega lo scenografo scoppiavano terribili discussioni perché Stalley era attratto più dagli interni vittoriani che da quelli più formali e rigidi del diciottesimo secolo quindi era più interessato al diciannovesimo secolo che al diciottesimo ma faceva un film sul diciottesimo diceva mi piace quella tappezzeria e io rispondevo Stalley non puoi usare quella tappezzeria è vittoriana perché naturalmente alla fine Stalley ne sapeva molto più di me e probabilmente di chiunque altro su quell'epoca a causa della quantità di ricerche le condizioni di vita i pidocchi nelle parrucche i loro spazzolini da denti i profilattici esaminammo tutto per scoprire come viveva quella gente ancora una volta l'informazione lo studio sono fondamentali per poter fare qualche cosa che abbia a che fare con l'arte e che abbia a che fare con la come dire con una visione più ampia a 360 gradi e oltre del dello spettro del reale 1980 Barry Lyndon non andò benissimo qualche critico si esaltò ma grosso modo non fu tutto questo successo non fu un successo commerciale anche in America certo grande film se vuoi se vuoi capire come si viveva nel 1700 devi vedere Barry Lyndon come se vuoi capire come si vivesse nel 1500 devi vedere il mestiere delle armi di Hermann sono film talmente filologici talmente ben fatti studiati anche nel minimo dettaglio come il minimo dettaglio era anche utilizzato da Sergio Leone e poi oggi da Quentin Tarantino che ha riprodotto una Hollywood strepitosa però ovviamente bisogna studiare fino alla follia il 1980 è l'anno di Shining horror tratto liberamente dall'omonimo romanzo di Stephen King le enormi sale vuote soprattutto gli interminabili corridoi e gli angosciosi labirinti dell'overlook hotel sono lo spazio ideale nel quale la nuova invenzione tecnica della Styricam brevettata dall'operatore Garrett Brown si incarica di contribuire ad aumentare la tensione e il senso di inquietudine che permeano tutta la narrazione più avanti Shining fu uno dei film di Kubrick di maggior successo commerciale a dispetto di una maggioranza di recensioni negative il film partì benissimo a New York e a Los Angeles nel weekend del Memorial Day Terry Sam il vicepresidente e primo dirigente dell'operazione da Warner Bros ipotizzò un incasso di un milione di dollari per il primo weekend e lo definì la migliore apertura che un nostro film abbia mai avuto a New York e Los Angeles è più grande di l'esorcista più grande di Superman tenendo un seminario sulla tecnologia del film alla scuola di cinema della USDC Di Giulio Eddie Di Giulio che era un grande esperto di cinema pensava ancora a Stanley Kubrick in pratica disse agli studenti che qualsiasi cosa facessero che fosse dirigere scrivere riprendere qualsiasi cosa la loro tavolozza era la tecnologia del cinema era quella la loro tavolozza dei artisti dovevano conoscere la tecnologia dei film come un pittore conosce sui ferri del mestiere i pigmenti le tinte i colori in modo da poterla usare e manipolare per me il più consumato artista capace di mettere in pratica questo comandamento era Stanley Kubrick due parole sulla carella King Kubrick negli anni seguenti Stephen King ha riconosciuto di essere orgoglioso che Stanley Kubrick avesse tratto un film da uno dei suoi romanzi di certo gli portò attenzione e gli fece vendere più libri ma davanti del genere horror trovava che il film non fosse all'altezza delle sue aspettative noi chiuderemo con questa c'è lo Shining libro di Stephen King c'è lo Shining film di Kubrick come c'è il David di Donatello e il David di Michelangelo sono due opere diverse sono stesso tema diverso sguardo diversi artisti due opere differenti e questa carella che onestamente è anche venuta a noia la chiuderei qua naturalmente se avete il gusto dell'orido guardatevi il film televisivo del 1997 con la Rebecca de Mornay girato da Stephen King è una cosa una cosa veramente in vere conta lo scrittore scriva il regista di riga sette anni più tardi dopo un periodo di silenzio nel quale il regista medita un film su Napoleone talmente ambizioso da rendersi improponibile per sua stessa ammissione cioè se faccio un film su Napoleone non ci levo le gambe è la volta di Full Metal Jacket 1987 quando esce anche Platone un ritorno al film di carattere bellico ancora una volta questa volta calato nel contesto della guerra in Vietnam qui ricostruito l'altro era la guerra di Corea e quella ancora prima è sulla prima guerra mondiale ancora una volta è un romanzo nato per uccidere di Gustav Esvold il punto di partenza per un film difficile visto l'argomento già ampiamente trattato da altri registi come Coppola in Apocalypse Now ovviamente Michael Cimino il Cacciatore e il già citato Platon di Oliver Stone nel quale tornano certe note antimilitaliste già presenti in Orizzonti di Gloria e nel Dottor Stranamore ma abbiamo visto anche in Paura e Desiderio Kubrick aggiunse il volto del soldato Palladilardo alla sua collezione di immagini minacciose che ci restano addosso in Arancia Meccanica Malcolm McDowell aveva bucato lo schermo nel ruolo di Alex con l'aspetto maniacale conferitogli dallo sguardo in tralice e dalla testa inclinata Jack Nicholson no la carrellata d'inizio c'è McDowell con gli occhi truccati Jack Nicholson aveva perfezionato il Kubrickiano sguardo da folle con il suo ghigno malvagio e gli occhi sconvolti la testa leggermente curva guardando nell'obiettivo Vincent Donofrio che aveva un fisico scultore e dovette prendere 30 kg per fare palla di lardo ai suoi momenti quando guarda l'istruttore parlare di ciò che un marine può fare con il suo fucile con la testa sghemba le rughe che convergono ad angoli simmetrici la bocca aperta il bianco degli occhi visibile sotto le pupille indurite e il bizzarro sguardo finale quando palla di lardo seduta nella latrina prima di uccidere il sergente Hartman e se stesso i denti di Grignati e gli occhi da folle di Donofrio sono degni di Nicholson e di McDowell e si aggiungono alla galleria kubrichiana di ritratti di pazzi naturalmente questo conferma che quando c'è un regista del carattere dell'appeal del magnetismo e della potenza mentale di Kubrick qualsiasi autore diventa come dire una pedina nelle sue mani anche il più bravo tutto quello che succede in Full Metal Jacket esiste dice Matthew Modine il soldato Joker ci chiamavamo uccelli dondolanti perché se socchiudi gli occhi e ci guardi tutti con la testa rapata sull'attenti sembriamo delle gigantesche reazioni era umiliante voglio dire non è piacevole farti rasare la testa una volta alla settimana e farsi urlare da un tizio dieci ore al giorno tutto quello che succede in Full Metal Jacket esiste la sequenza del campo di addestramento è probabilmente la descrizione più realistica di un campo di addestramento dei Marines che sia mai stata messa su pellicola con l'eccezione di un filmato di un addestramento in Paris Island non ti è concesso scampo la ragione per cui le storie di Stalle sono scioccanti è che sono così vere non cerca di creare un po' di simpatia per qualcuno perché non è un film perché non vuole conquistarsi il pubblico non è piacevole vedere uccidere qualcuno e non è piacevole morire perché cercare di rendere romantico qualcosa che non è cosa succede in nel film il cui titolo originale full metal jacket si riferisce alla guaina in ottone ramato dei proiettili incamiciati citati da uno dei protagonisti a metà della storia ispirato al romanzo nato per uccidere di Esford l'abbiamo già detto di cosa parla Paris Island Carolina del Sud 1967 nel campo di addestramento dei giovani coscritti vengono affidati a rude e spietato sergente maggiore Hartman che li sottopone ha un duro addestramento fisico apostrofandoli con insulti mortificanti e soprannomi ignobili Joker soldato biancaneve ha un soldato di colore Palla di Lardo protagonista della vicenda sono lo studente Joker aspirante giornalista di guerra il suo amico texano cowboy e il campagnolo Palla di Lardo il quale diviene oggetto più di altri delle continue vestazioni dell'istruttore a causa della sua goffaggine e del suo atteggiamento infantile inadatto totalmente inadatto alla vita militare ancora lì viene fuori la tematica del quanto sia opportuno forzare la natura di un essere umano e quanto sia inopportuno ne farà le spese appunto l'esercito nella figura di un ufficiale Hartman la seconda parte siamo in Vietnam tutto ricostruito in Inghilterra quel pazzo di Kubrick si fece importare 500 palme dalla dalla Spagna insomma queste follie e scopriremo con terrore l'orrida voragine fra la teoria e la pratica perché anche un film diviso in teoria il campo dell'estramento è pratica cioè quello che veramente hai imparato e se ti serve veramente ma la realtà Fuse Script Stai Filei la natura ama nascondersi e regalarci sempre delle cose improvvisi nel bene nelle sale cinematografiche italiane il film esce il 6 ottobre 1987 e in tre mesi incassa 8 miliardi di lire piazzandosi poi al quarto posto tra le pellicole più viste dell'anno il doppiaggio italiano fu eseguito dalla Camoti cinematografica e diretto da Mario Maldesi su dialoghi di Riccardo Aragno naturalmente erano i fiduciari di Kubrick che voleva mettere bocca anche sul doppiaggio metteva bocca dappertutto scriveva anche le pagine scritte che in italiano trovi in Shining il tramonto il mattino l'ora in bocca la scritta direttamente Kubrick e la voce del Sergio Aragman è dell'attore Aero Spagni che essendo un cantante d'operetta aveva la capacità di emissione e la voce meravigliosamente appoggiata sul sul diaframma per non perderla aveva capacità vocali tali per poter come dire reggere quel pazzo dell'attore Ermey che era effettivamente un ufficiale e invece alta curiosità la voce del cecchino vietnamita è della doppiatrice Ilaria Stagni che noi conosciamo per essere la voce di Part Simpson passano nove anni Kubrick dopo aver ricevuto ma non ritirato personalmente il leone d'oro alla carriera nella mostra di Venezia del 97 e il premio Griffith il maggior riconoscimento americano per un cineasta Griffith è stato il primo regista americano nel 1999 Kubrick realizza appunto Eyes Wide Shut l'ultima sofferta opera della sua filmografia il film dalla lunga e travagliata lavorazione è il frutto dell'adattamento del romanzo Puppeltroheim di Arnold Schnitzler Doppio Sogno che in questo caso trova una contestualizzazione nella New York ricostruita nei Pilewood Studios quindi New York inglese completamente ricostruita appunto negli studi inglesi la lavorazione di Ed West Shut iniziò nel settembre 1996 e durò 52 settimane ci ricorda Vince lo brutto nel libro al termine delle quali Kubrick disse ad attori e troupe che avrebbero dovuto mantenersi disponibili fino al maggio 1998 nel caso fosse stato necessario rigirare qualcosa l'idea di Kubrick per l'orgia era audace e sfiorava i confini fra la pornografia la scena in 2001 di serie spazio c'era l'immagine del monolite in l'orgia e sfiorava il confine fra la pornografia hard e softcore Bill il Bill Hartford interpretato da Tom Cruise doppiato fra l'altro non da non ha la solita voce di chevalier ma è doppiato da Massimo Popolizio Bill attraversa le stanze come un sonnambulo e in questa condizione di stordimento si trova di fronte numerosi ospiti mascherati e qui entriamo appunto nella vita di questa coppia borghese alto borghese perché sono molto benestanti ma che all'apparenza hanno come dire sacrificato e non hanno praticamente fatti i conti con l'inconscio doppio sogno naturalmente è scritto nella prima metà del novecento e ha come dire influenze chiaramente sul sogno freudiano il film è ancora in fase di montaggio quando Stalle Kubrick viene colto da un infarto che stronca improvvisamente la sua vita a settant'anni il 7 marzo del millenovecento del millenovecento novantanove ma la copia licenziata per il cinema sarà quella che avrà il suo naturalmente il suo placet in quest'opera una storia in cui il sogno si confonde con la realtà lasciando proliferare incubi ossessioni e desideri appunto parla di un medico Bill sposato con l'era affascinante Alice che dopo una festa sprofonda in un tunnel di sogni e di desideri inespressi al suo chat si assesta si assesterà come il maggior successo commerciale di Kubrick e nel giudizio del nostro Enrico Ghezzi che si dirà il film più lavorato dovremmo dirlo fuori sync però non abbiamo così tanti mezzi il film più lavorato e complesso che sia dato di vedere è un film che richiede espressamente un di più di uno sguardo attento ci vogliono degli occhi apertissimi per vedere questo film allora la carellata quasi incredibile su tutto Kubrick la monografia su tutto Kubrick che sta terminando vorremmo lasciarvi con alcune riflessioni velocissime sentite questa bellissima affermazione di Enrico Carocci l'ironia in Kubrick emerge nell'intreccio tra ciò che si dice e ciò che non si dice e condivide con l'umorismo la propensione verso l'incongruenza l'ambiguità il capovolgimento e la manipolazione delle cornici di senso in Kubrick si afferma e si nega allo stesso tempo l'esperienza di una realtà che è in sé contraddittoria l'ironia implica sempre una specifica internazionale intenzionalità da parte di chi parla ed è quella ironia che noi vediamo trapelare a partire poi da in modo particolare da dal dottor stranamore la vedremo poi vabbè lì era proprio manifesta quasi grottesca però comunque questa ironia cupa perché ovviamente Kubrick ha una come dire non è il massimo dell'ottimismo da quel punto di vista lì ma per fortuna nel senso che pur avendo uno sguardo iper realista quasi che cerca sempre di trascendere quello che ci sta facendo vedere poi vabbè ci sono tutti i documentari su anche sul documentario sull'overlook hotel che spiega tutte le simbologie però sì effettivamente Kubrick era uno che sapeva si documentava tantissimo sapeva benissimo quello che faceva e naturalmente rilasciava anche più livelli di di lettura come tutti i grandi adesso veramente arriviamo in chiusura c'è bellissima questa affermazione che dell'autore di tutte le locandine la seconda metà del novecento cento settantacinque che è appunto Sol Bus illustratore se avete presente la locandina di Vertigo e di Alien ecco l'ha fatta lui insieme a altre ottocento altremila locandine perché c'era sempre e ci restituisce come dire un'immagine superficiale e allo stesso tempo profondissima dell'uomo Kubrick Stanley è davvero austero è un uomo che si gratta spesso la barba pensa intanto si strofina la barba si esprime in modo tranquillo non è un tipo che strilla lavorare con lui è pazzesco non posso affermare che sia una persona ragionevole posso solo dire che è ossessivo nel miglior senso del termine perché la ragionevolezza non produce niente di buono ci deve essere una certa irragionevolezza in ogni serio lavoro creativo e lui è fatto così e con questo bellissimo ritratto di Kubrick vi salutiamo e vi ringraziamo per la pazienza accordataci